Quello che dico ai ragazzi è che ogni volta dobbiamo migliorare, sia personalmente che a livello di squadra, di collettivo, ed è questo che vorrò vedere in queste gare. È chiaro che ci aspettano avversari difficili, giocheremo anche con parecchi giovani, i nazionali le prime partite non potranno giocare, per cui bisognerà prendere anche i risultati che verranno. Però siamo sempre il Milan, come ripeto, dobbiamo fare bella figura, dobbiamo crescere, devo dire che ci sono tanti aspetti positivi oltre a tutti quelli che si sono allenati qua. Penso che il fatto che De Silvio sia arrivato qualche giorno prima come Abate, che Baruteria abbia voluto il preparatore personale una settimana, un preparatore atletico una settimana prima, che i giocatori rientrano dalle nazionali che sono già a New York, che sono in ottime condizioni, questi sono bei segnali.